Allora, oggi siamo qui presenti non solo per dare forza e gridare giustizia per l'ingiustizia che proprio è stata fatta e perpetrata. Ai danni di una madre è stata tolta la vita a un giovane ragazzo e quindi niente e nessuno glielo potrà ridare, però giustizia deve essere fatta. Quindi, signori, giustizia, 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 verità, e verità, soprattutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Partiremo in corteo per arrivare sotto la prefettura per far sentire la voce di quella Napoli che non ha dimenticato Ciro Esposito, che non ha dimenticato un suo figlio, che non ha dimenticato un barbaro assassino, un attentato che è stato fatto a un giovane e a tutta una città. Qua abbiamo la mamma di Ciro che ci può raccontare cos'è successo quel giorno, qualcosa su cui molti non ci hanno raccontato la verità, perché purtroppo a tre anni da quei fatti stiamo ancora cercando verità e giustizia per Ciro. E oggi, alla vigilia di questa ennesima data, ancora non sappiamo cos'è successo quel giorno, ancora ci sono troppi misteri su quella giornata, ci sono troppe cose che non sono state dette. Noi ancora non sappiamo perché De Santis quel giorno agito, chi gli aveva dato una rivoltella per andare lì a provocare pullman di donne, di bambini, di gente che era andata a vedere soltanto una partita di pallone. Perché per tutti quei chilometri quelle persone sono state fatte camminare in uno spazio vuoto, dove poi sarebbero diventati oggetto di un vero e proprio attentato? Chi era con De Santis quel giorno? Chi è che lo sta coprendo? Perché De Santis ancora a distanza di tempo si può permettere di presentarsi alle audienze come se fosse stato lui la vittima, coperto da altre autorità? Perché nei giorni immediatamente successivi non fu fatta chiarezza su questo lo scondividuo, addirittura candidato nelle liste di Alemanno? Da dove usciva fuori? Chi è che lo sta coprendo? Ecco, tutte queste domande a tre anni dai fatti noi non abbiamo ancora avuto risposta e non solo non abbiamo avuto risposta ma adesso alla vigilia della seconda tappa di questo processo si sta parlando di sconti di pena per De Santis, si sta parlando appunto quasi come se lui fosse parte in causa, si sta derubricando tutta la vicenda come se fosse una rissa tra opposte tiposerie. Noi oggi siamo in piazza insieme alla famiglia di Ciro e l'associazione Cirovive, insieme a tanti cittadini che non si riconoscono nel percorso che ha avuto questo processo e che pensano che la giustizia sia una cosa un po' più grande di quella che possono dare i tribunali, la giustizia è innanzitutto il riconoscimento collettivo e la memoria di quello che è successo. Noi oggi siamo in piazza per chiedere questa giustizia, per chiedere che sia fatta verità, per chiedere che tutto non si riduca a una rissa fra opposte tiposerie perché al posto di Ciro ci potevamo essere tutti, ci poteva essere qualsiasi ragazzo coraggioso e generoso di questa città che non voleva vedere un pullman di donne e bambini a cui venivano tirati addosso petardi. La poteva succedere una strage e probabilmente se la strage è stata evitata è soltanto perché delle persone sono andate a mettere fine a questo attacco e perché una pistola che era stata messa in mano a questo losco individuo si è inceppata, altrimenti avremmo potuto raccontarci una storia ancora più tragica. Purtroppo di tutto questo non se ne è parlato, né nei giorni immediatamente successivi né ancora oggi. Abbiamo dovuto assistere a una criminalizzazione sui giornali di tutti i napoletani, addirittura una criminalizzazione di Ciro e della sua famiglia soltanto perché venivano da Scampia, addirittura Ciro si è dovuto vedere, nonostante stesse in coma, le guardie che sono venuti ad arrestarlo, parliamo delle ore immediatamente successive, è stata una cosa veramente schifosa e noi dobbiamo farci sentire per chiedere verità e giustizia. Quindi grazie a tutti per essere qui oggi, grazie a tutti quelli che vogliono portare una voce differente, io lascio la parola ad Antonella e poi magari ci organizziamo e partiamo in corteo per andare a far sentire la nostra voce agli organi del governo italiano su questo territorio perché ci devono ascoltare. Buongiorno a tutti, grazie per ognuno di voi che oggi si sente Ciro Esposito, non a puro caso abbiamo scelto questo hashtag, io sono Ciro Esposito perché Ciro poteva essere ognuno di noi, potevi essere tu, potevi essere chiunque, questo ragazzo che è morto solo per aver avuto un eccesso di amore, solo perché aveva sentito le donne urlare, i bambini picchiare, i pugni vicino ai vetri e oggi dopo tre anni ci sentiamo dire che non sussistono futili motivi. Questa è stata la parola del procuratore generale. Ciro quasi quasi meritava di morire? Io voglio questa risposta. Ciro Esposito perché è morto? Ciro è morto perché ha avuto un atto di coraggio, perciò è morto, non perché se l'è cercato o perché gli era dovuta la morte. Quindi io dopo tre anni stiamo girando ancora in un deserto, un deserto che quasi quasi sembra non aver fine. La voce di Ciro urla giustizia e verità, verità per Ciro, verità, vogliamo verità. La famiglia esposita, il popolo napoletano, vuole e urla, giustizia e verità. Basta, solo questo voglio dire. Basta, solo questo voglio dire. Basta, solo questo voglio dire. Basta, solo questo voglio dire.